Siamo ormai nell'ultima settimana, manca pochi giorni alle elezioni, siamo con Daniele Esposito, candidato per le liste di centrodestra. Che atmosfera c'è? Come sono stati i confronti che ci sono stati sul territorio? L'atmosfera è molto positiva, sentiamo veramente tante persone che ci appoggiano e questo fa veramente piacere. I quattro dibattiti sono stati molto interessanti, in questi abbiamo potuto esprimere le nostre posizioni e penso sia emerso l'elemento di competenza ed esperienza che caratterizza me e la mia coalizione. Quali temi state insistendo? Un tema secondo noi molto importante è il rilancio del centro storico e per fare questo andremo a intervenire sugli edifici pubblici esistenti, l'ex Casa della Misericordia in Piazza San Giuliano che diventerà l'Accademia delle Arti, Casa Clara che diventerà un luogo di accoglienza per donne in difficoltà socio-economica, l'ex Municipio che diventerà un prolungamento della biblioteca con auli studio aperte H24 e spazi di co-working e l'ex Monastero di Sant'Anna che diventerà pubblico e sarà sede di luoghi di aggregazione sociali e culturali. Tutto questo ha un unico obiettivo, quello di rilanciare il centro, portare più persone nel nostro comune e questo farà dare beneficio anche ai commercianti, quindi una città più viva, più vivace e anche dal punto di vista commerciale più attrattiva. Ma non ci fermeremo qui, interverremo anche nelle frazioni a Bondo con dei parcheggi nella zona delle elementari, a Desenzano con le case delle associazioni, le ex elementari e la scuola dell'infanzia, a Comenduno ristruttureremo Villa Regina Pacis e in Vale del Luglio faremo vari interventi, primo tra tutti il completamento del parco con un punto ristoro e servizi igienici, a Vallalta il parcheggio sotto il campo da calcio, a Fiobbio completeremo il parcheggio e collegamento alla pista ciclopedonale e sistemeremo la strada vecchia che collega Abbazia. Ad Abbazia andremo a riqualificare il parcheggio del cimitero e creeremo nuovi parcheggi in via Tribulina, a Dossello sistemeremo la seconda parte di via Dossello e a Casale collaboreremo con la associazione Amici di Casale, dandogli anche uno spazio pubblico dove potranno trovarsi e anche facendo degli interventi di sistemazione della fontana e della pensina, insomma tanti interventi non solo nel capoluogo ma anche nelle frazioni perché riteniamo che Albino con la sua grande estensione territoriale meriti un'attenzione a 360 gradi. Un appello quindi agli incerti, perché scegliere le vostre liste e perché scegliere la linea esposita? Dovrebbero scegliere me e le liste che mi sostengono perché Albino è il sesto comune della provincia con i suoi 17.500 abitanti, ha un'estensione territoriale di 32 km quadrati, un patrimonio immobiliare comunale di 90 milioni di euro e un bilancio comunale di 23 milioni, oltre a 90 dipendenti pubblici. Per poter gestire questa macchina serve una persona con esperienza, capacità, competenza e piedi ben piantati per terra. Io e la mia squadra incarniamo queste caratteristiche, per questo è opportuno votare noi.